vai 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 che ti faccio il filmato vai 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 sei un bastardo tipo del zanade dai dai faccio solo un filmato agli amici che sono io su youtube che sono tutti gli amici così domani lo vedo dai fate una foto fate un sorriso dai tiratelo su con un sorriso no mica che se gli scappa pianta una dentata svegalo svegalo svegalo